C'è necessità di un appello di questo tipo perché le api ci testimoniano tante problematiche ambientali, cambiamenti climatici, l'inquinamento da agrofarmaci, le modificazioni del paesaggio, ma le api sono anche una realtà nel mondo della biodiversità, sono responsabili della composizione delle nostre faune e quindi la loro stessa biodiversità, la loro stessa struttura genetica è fondamentale per il benessere dell'ambiente ed è anche fondamentale per la produttività dell'apicoltura. Allora richiamare questo tema che chiama in prima persona il mondo dell'apicoltura ad agire al proprio interno non vuole dire che questo è l'unico problema ma che all'interno delle problematiche ambientali e delle api e dell'apicoltura questo è un tema in cui l'apicoltore può spendersi e ce ne sono veramente tanti, c'è tutto un mondo dell'apicoltura che sta già andando su questa strada.